Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrozzo Sarezzano. Andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Amici ben ritrovati con una nuova puntata del Cane Tornalo Vila in allevamento a Sara Zanno al Pastore Trasumante con Dario Capogrosso. Ciao a Dario. Ciao a tutti. La nostra web serie, sapete, vi segue in ogni momento di vita insieme al vostro cane. Parliamo di uno dei momenti più emozionanti, quando portate il cucciolo a casa. Cosa fare, o meglio, cosa non fare, ce lo spiega Dario. Esatto, principalmente cosa non fare. Allora, partiamo da un presupposto. Normalmente chi prende un cucciolo viene a vederlo, a volte non lo vede nemmeno, e si aspetta tendenzialmente dal cucciolo quelle effusioni che a lui verrebbe naturale dare al cucciolo. In realtà dobbiamo pensare che prendere il cucciolo in una situazione che lui conosce molto e poi decontestualizzarlo in un nuovo luogo che può essere vicino o lontano. Un po' per il cucciolo è come se fosse un rapimento, noi dobbiamo pensare questo. Per cui non dobbiamo mai aspettarci dal cucciolo a meno di cuccioli particolarmente esuberanti un comportamento simile a quello che poi ci aspetteremo da lui in futuro. Molto spesso uno dei problemi principali è proprio quello. Si prende un cucciolo, si porta a casa e il cucciolo, al contrario di quanto magari ci si aspetterebbe, lo si trova in un angolino che non si muove e ovviamente parte il cuore di mamma normalmente e quello che si fa naturalmente è avvicinarsi al cucciolo, cercare di forzarlo nell'alimentazione, nel bere, nel farlo muovere, di trovarlo in uno spazio adeguato. In realtà fondamentalmente nulla di tutto questo è corretto perché l'approccio e la linguistica tra virgolette canina è differente da quella umana. Quindi noi non dobbiamo approcciarci come se fosse un bambino, dobbiamo lasciare adesso il suo spazio, è come se noi venissimo rapiti, portatevi in un posto di cui non conosciamo né lingua né usi né costumi, non sappiamo chi ci ha preso, come ci ha preso, odori differenti, pensate come vi sentireste, non bene. Quindi non preoccupatevi se il cucciolo inizialmente appena portato a casa non beve, non preoccupatevi se il cucciolo non mangia, non sono le priorità, questo non deve essere una priorità. Preoccupatevi soltanto di lasciarlo tranquillo e una volta lasciato tranquillo vedrete che pian piano, gradatamente, il cane si abituerà e questa brutta parola che ho detto, quindi rapimento per un cucciolo, normalmente i cani non sono mai permalosi, scomparirà. Quindi è soltanto veramente una questione di pazienza, noi siamo poco pazienti nei confronti dei nostri cani, dei nostri amici a quattro zampe. Quindi dobbiamo imparare a essere pazienti, non spaventarci, lasciarli il suo tempo, lasciarli questo spazio ed eventualmente l'ideale sarebbe avere magari in casa, ecco, quando in casa si ha già un cane, questo blocco non avviene mai, non avviene mai. Noterete che noi al momento abbiamo delle cucciolate, vedrete magari i cuccioli totalmente espansivi, presi al loro contesto, dal loro giardino, spostati soltanto, come dire, 30 metri in un altro recinto, i cuccioli normalmente, specialmente sotto i tre mesi di età, si andranno a rifugiare in un angolo. Poi gradatamente, molto spesso qui, magari nel corso di pochi minuti, ma magari in un altro contesto totalmente diverso, tipo quando dalla campagna ci si sposta in città, odori, sapori, rumori diversi, il cucciolo è normalmente intimidito perché non sa quello che gli aspetta e non ha una guida che in qualche maniera gli possa mostrare di non avere paura. Noi facciamo parte di un'altra specie, quindi per quanto il cane possa essere socializzato bene, fondamentalmente sarà sempre complesso aspettarci un comportamento esuberante da parte del cuccio, a meno di determinati casi. Per cui, importante, i punti sono prendere il cuccio, lasciarlo tranquillo e dargli la possibilità di poter bere. L'acqua è principale. Il cibo non è essenziale, il cuccio se non mangiasse una volta, se torna a casa la sera, non mangia la sera, non è un problema. Vedete che il cuccio pian piano si avvicinerà a voi, deve essere lui a avvicinarsi a voi e non si deve fondamentalmente forzarlo anche nel gioco, altrimenti quando poi quell'asso temporale che è necessario al cucciolo per sentirsi a suo agio viene fondamentalmente a calare e zibare su questa situazione qua, il cuccio sarà esageratamente socievole ed esuberante e lì poi intercorre il problema, abbiamo fatto alcuna puntata da Jenny, sul cuccio che vi salta addosso, è troppo insistente, vi mordica le mani. Quindi è tutto, parte tutto dalla radice. Portate il cuccio a casa, fateli godere il nuovo posto, poi rilassatevi e godete la vista del cucciolo e che sia in un angolo magari con questa faccia sofferente, beh, diciamo che possiamo farci una ragione. A proposito, vi invitiamo a seguire la nostra playlist della web serie attraverso il canale C Alessandra, playlist dedicata. Casi concreti, il cucciolo di notte piange per più notti, cosa fare? Allora, normalmente i cuccioli che vanno qua non piangono, però perché non piangono? Infatti un'altra cosa importante, magari durante il viaggio anche se, come dire, la legge non tanto lo permette. Nel senso che il cane fondamentalmente dovrebbe in auto essere comunque posto nel dietro della macchina con una rete che lo separi dal guidatore. Però se portate un passaggero con voi lasciate il cucciolo basso, quindi in maniera che il baricentro della macchina sia basso e il cane non soffra di problemi appunto legati al viaggio in macchina. E magari tenendolo in braccio così già il cane inizia con calma, senza forzature, a assaporare i vostri odori e a sentirvi come persona sicura. Una volta fatto questo, tendenzialmente lo portate a casa, se la destinazione del cucciolo è tendenzialmente in giardino, lo lasciate in giardino e il cucciolo assolutamente non piangerà. Il problema è che il cucciolo molto spesso piange quando appunto c'è questo binomio, casa giardino ovviamente, il cucciolo arriva a casa, lo si porta in casa, si sta in casa col cucciolo, il cucciolo si adatta all'ambiente domestico, poi la sera, così per magia, cosa facciamo? Lo portiamo fuori e il cucciolo inizia a piangere. Normale, noi l'abbiamo adattato prima in casa e poi il cucciolo dice ma cosa ho fatto di male ora per essere fuori? E il cucciolo ovviamente vuole entrare in casa, per cui anche quello è molto importante. Se si pensa di tenere il cucciolo in un luogo diverso dove poi passerà la notte, non portatelo lì, cioè nel senso meglio portatelo in luogo dove pensate subito che il cucciolo debba stare, perché per noi è naturale, ci muoviamo nelle nostre case, una stanza all'altra, giardino, semi interrato, cantina. Per il cucciolo no, ogni ambiente è totalmente diverso, quindi per lui è sempre un adattamento differente a un nuovo luogo. Il cucciolo ha una mente da cucciolo, è come se fosse un bambino di un anno, quindi non riesce sicuramente ad avere questa flessibilità mentale per capire e adattarsi, quindi calma, pazienza, sicuramente regolari e costanti, nel senso bisogna, ecco la parola non mi viene, però in qualche maniera bisogna essere coerenti, ecco ci vuole coerenza nell'approccio al cucciolo. Pensare che è piccolo, esattamente non dovete approcciarvi con una mente estrema, è un cane, quindi ovviamente cognitivamente non è paragonabile a un umano e a maggior ragione è ancora un cucciolo, quindi dovete essere coerenti e farvi due o tre domande prima. Un'ultimissima domanda al volo, te la chiedo io, è giusto creare una tana per disporre una coperta, un luogo delicato? Allora, è un'idea carina, ma non è fondamentale, nel senso che in realtà non è giusto né sbagliato, è giusto se si pensa di avere il cane in un determinato angolo, quindi mettere il cane in quell'angolo con la copertina, con odori a lui magari familiari, aiuta perché il cane ovviamente si sente protetto. Molto spesso però, specialmente si porta un cucciolo in un giardino, se è d'estate all'esempio, lui andrà a trovare il luogo più fresco, sotto una siepe. E anche lì si sentono veramente ogni tanto i miei clienti, purtroppo che sono tutte persone super, mi chiamano per problemi un po' stupidi e mi raccontano le azioni un po' strane. Cuccioli che magari arrivano in un giardino, vanno ovviamente a rintanarsi immediatamente sotto una siepe, capita anche quello, sta tranquillo là e invece di providare i bambini che hanno scelto un angolo della veranda per il cucciolo, vogliono insistentemente prenderlo, lo portano nel luogo del loro scelto e il cucciolo avvia. Beh, la risposta è semplice, lasciate fare al cucciolo. Grazie Daro per tutti questi consigli, seguite la nostra playlist e le prossime puntate dedicate al mondo dei cani, non solo da pastore. Grazie Daro Capogross e Sarezzano. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away and skip to the beat of our hearts as they chatter as you pitter, pitter, patter. Didn't you know that I could be a wingman flying around as we soar over?